Allora, Professor Melelli, Professor Bennato, Professor Liotta, l'offerta della settimana. Sentiamo il Professor Melelli, poi il Professor Bennato e poi il Professor Liotta. Professor Melelli. Professor Bennato, a lei la parola. Allora, diciamo che... Anche lei questa notte ha gli occhiali come i miei, Professor Bennato, eh? Anche lei questa notte. Se proprio volessimo essere pignoli, è vero il contrario, ma va bene così. Allora, l'offerta della settimana. Allora, quindi, l'offerta della settimana mi sembra interessante, perché dal mio punto di vista, volendo fare una sintesi di tutte le pellicole che sono uscite, mi sembrano tutte pellicole comunque molto politiche, più, diciamo così, più legate ai rapporti di forza individuali che ai rapporti di forza, diciamo così, del potere politico classicamente e istituzionalmente inteso. Diciamo che il primo film che è saltato alla mia attenzione è sicuramente l'altra via, fondamentalmente per un motivo. Per la prima volta vedo rappresentato, diciamo così, il territorio in cui sono nato e cresciuto, cioè le zoe di Catanzaro Lido e della Costa degli Aranci. E quindi mi sono sentito, ha avuto un effetto Madeleine, diciamo. Cioè mi sono sentito emotivamente coinvolto dalla, diciamo così, dalla location di questo film. Poi sicuramente c'è Mini Principe delle Tenebre perché questa idea della vampira, dell'horror non horror che si trova all'interno di Napoli e quindi che rilegge in chiave mediterranea il mito del vampiro, a me piace molto come idea, soprattutto perché credo molto nell'immaginario fantastico applicato sul territorio italiano. Quindi sicuramente questo è un altro film. Però quello che mi ha colpito più di tutti e quello che andrò sicuramente a vedere senza ombra di dubbio è un dream scenario, hai mai sognato quest'uomo? Fondamentalmente perché, prima di tutto perché l'idea ricorda un vecchio meme, cioè un creepypasta che girava su internet qualche anno fa sul fatto che le persone potessero sognare un uomo in particolare dai tratti generici e quindi era anche una specie di leggenda metropolitana che girava in rete. Quindi questo me lo rende molto simpatico. E poi perché è un'acuta riflessione, da quello che ho potuto capire, sulla questione della viralità. Cioè quando uno diventa famoso tramite appunto questo meccanismo virale che noi lo attribuiamo a internet, ma in questo caso attribuito al sogno. Quindi questo, tra l'altro, se non sbaglio il regista è lo stesso che ha fatto Sick of Myself. Quindi questa idea della popolarità costruita in un modo piuttosto surreale è un tema che gli appartiene e che secondo me è molto interessante. Poi c'è sicuramente Thanksgiving, Ellie Roth. Lo so che Ellie Roth, diciamo così, non è proprio nella sua forma migliore. Però io sono un appassionato di slasher movie. Negli ultimi tempi i film horror erano quasi tutti asciutti. Cioè avevano pochissimo sangue. Questo è proprio... E poi tra l'altro questo è molto politico perché prende spunto da un presunto fatto di cronaca ambientato in un Black Friday. Quindi nel massimo momento della celebrazione capitalistica c'è un fatto di sangue. Questo me lo fa diventare molto simpatico oltre al personaggio del, diciamo così, del pellegrino che va a uccidere queste persone. E infine c'è Ken Loach. Ken Loach c'è poco da fare. E qualunque tipo di film, diciamo, di cui è il regista è sempre una riflessione sociologica sulla contemporaneità. E questa riflessione sull'immigrazione, sul confronto con l'altro, di The Old Dog, secondo me, è un buon richiamo a surriflettere su chi stiamo diventando e come ci dobbiamo mescolare con le culture che stanno emergendo. Quindi sicuramente sono queste le scelte della settimana. Professor Liotta per lei. Professor Bennato e poi Professor Melelli. Professor Bennato. Allora, diciamo che i primi tre film in classifica esprimono fondamentalmente tre strategie diverse per intercettare il pubblico. Sono molto contento che il film di Paolo Cortellesi sia al primo posto, c'è ancora domani. E secondo me è il classico film che si è costruito un pubblico col passaparola. Perché tutto quello che si legge dal punto di vista della critica è stato piuttosto, in alcuni casi, è stato anche piuttosto, diciamo così, sarcastico. Non sarcastico, ma è stato molto, diciamo così, tagliente in alcuni casi nei confronti di questa pellicola. Poi c'è The Marvels che ovviamente ha incantato solo gli appassionati della serie dei film supereroi perché ormai sentiva nell'aria che questo film non fosse proprio un'eccezionale pellicola da vedere e quindi ha beccato solo gli appassionati. Ma quello che mi piace riflettere, che tra l'altro è una pellicola che ho visto proprio sabato scorso, è Fine Night at Freddy's. Perché magari non tutti conoscono la genesi di questo film, però è un film che nasce nelle culture di internet, dato che si ispira a una serie di videogiochi di grande successo. E forse non tutti sanno che ha anche ispirato un film con Nicolas Cage, giusto per restare nell'ambito del riferimento a Nisco con Nicolas Cage. Quindi diciamo che secondo me sono tre film che intercettano tre diverse tipologie di pubblico e hanno costruito diversamente la loro base di pubblico. Professor Medelli, commento alla classifica?